Raga, ho sentito questo rumore? È il rumore dalla fine del mondo Perché alle 15 esce un mio video Su Stallions TV Ci dovete stare Ok ragazzi, è uscito il video Il titolo è questo Dovete tirare su con il dito E farmi vedere se siete ancora vivi sul canale Con un bel like Guardate qui Guarda quanti bei like Belli Gesù Cristo Sentite ma La gente che dice che Imito L'edit di Luis Sa che io sono su Youtube Da 7 anni E da 3 anni Edito sempre uguale Oh no Raga, il video di oggi L'ho caricato solo perché Dopo un mese di inattività Dovevo insultare qualcuno Per fare più viso alle scalpore Così almeno mi facevo Un minimo dei soldi Ah Però non è monetizzato Perché le cose con bestemmi nel titolo Non vengono monetizzate Wow E comunque Sul fatto delle bestemmie E del dio canguro E già Bla 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 L'ho usate per 3-4 giorni Poi alcuni fan mi hanno detto Gli dava fastidio Che per loro erano delle bestemmie E non lo usa di più Quei termini Non lo usa di più Perché io rispetto moltissimo Chi mi segue E ripeto Io sbaglio Ho sbagliato tanto in passato Sbaglierò tanto nel presente E ancora di più nel futuro L'importante è capirlo E correggere i propri errori Ripeto Non ce l'ho con nessuno Non mi sono assolutamente arrabbiato Anzi Semplicemente mi chiedevo Perché tutti insieme Sembra tipo che si danno l'appuntamento Infatti uno mi ha detto E' tipo la festa del papà C'è sta la festa tua Praticamente Una volta l'anno Vicino al romix Dobbiamo indire La giornata Di cicciochiamolo 89 Dove Partono Dissing Non dissing Video ironici Tutti contro di lui Che fa schifo Che quanto è bravo Allora Qui ufficialmente sfocato Dico a Blur Blur invece di far partire Le hashtag del cazzo Fai partire Il ciccio day Una volta l'anno Il ciccio Fallo partire Il ciccio day Tipo la festa del papà La festa della mamma Ciccio day Regà Ho sentito sto rumore? E' rumore dalla fine del mondo Perché alle 15 Esce un mio video Su Stallions TV Ci dovete stare E' rumore dalla fine del mondo